La Calabria è famosa per le sue incompiute. Fondi pubblici spesi in cattedrali nel deserto che in passato sono serviti solo per creare illusioni di fare qualcosa in favore dei cittadini mentre in realtà nulla arrivava all'utente finale. Spesso questi monumenti allo spreco, preda dell'abbandono, dei vandali e delle intemperie, vengono ridotti in rude rifaticenti. Altre volte invece si riesce a recuperarli e ridonarli alla comunità in modo da ottenere il risultato sperato. E quanto sta succedendo a Pizzo, alla vecchia struttura del centro di aggregazione giovanile in località Sant'Antonio? A Pizzo ci sono molte incompiute e uno degli obiettivi dell'amministrazione è quello di portare a completamento e chiaramente renderle fruibili alla cittadinanza. Questo è un esempio concreto. Il centro di aggregazione giovanile, realizzato diversi anni fa, è rimasto così in abbandono per molti anni. Abbiamo, a seguito di aver reperito delle risorse economiche, siamo riusciti a riprendere i lavori e a completare questi locali. Sono locali importanti che saranno destinati alle associazioni del territorio, innanzitutto alla banda municipale della città di Pizzo, che proprio recentemente ha fatto dei passi importanti anche in collaborazione col Conservatorio di Vibo, così come sarà utilizzato da altre associazioni della nostra città. Qual è l'importo dei lavori e soprattutto quando potranno essere fruibili dai pizzitani? L'importo è di circa 130 mila euro per effettuare i lavori di completamento. A maggio i locali saranno completati e quindi già nella primavera saranno iniziate le procedure per l'affidamento dei locali stessi.